saluti ben trovati qui dalla piazza di amalfi per raccontarvi il restauro della fontana che è in piena esecuzione manca ancora un mesetto e più affondanti lavori sono previsti sono iniziati il 31 agosto e si potranno fino alla fine di novembre diciamo che ce la godremo in pieno per natale la cosa importante è che la direzione dei lavori è affidata all'ina sabino la sovraintendente funzionario addetta alla costa sorrentina e amalfitana per il restauro di questa di queste opere lo vediamo da vicino è stato smontato tutto il bascone il ripristino del circuito idraulico l'arrivo dell'acqua e soprattutto possiamo già cogliere la bellezza città di amalfi antica repubblica marinara ministero dei beni culturali adesso il lavoro sta procedendo con la messa a punto e la sistemazione del circuito idraulico e il basamento della vasca ma possiamo già godere e fruire della bellezza dei marmi puliti bianchi bianchissimi ripuliti dal calcare dell'acqua e dall'annerimento che si produce di per sé automaticamente per la umidità una serie di muschi che la bontà dei putti è venuta fuori tutta in tutta la loro leggibilità la sua bellezza i putti con tra le mani questi animali animali marini la scritta rimane leggibile pandettia justivia nea anche questa sarà ancora pulita manca della finitura della pulizia ma intanto già sta risorgendo in tutta la sua bontà